Ciao sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere alcuni layout della categoria fashion and beauty per il tema per WooCommerce Divi Nei video precedenti che trovi in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale abbiamo un po' iniziato a conoscere Divi, questo tema famosissimo per WordPress che può anche lavorare in sinergia con WooCommerce per consentirci di creare dei veri e propri store online per noi o per i nostri clienti oltre questo abbiamo tutta una serie di layout pre-costruiti che possono rappresentare un singolo template oppure addirittura quasi un tema completo quindi da importare rapidamente e velocemente e essendo che questi layout sono talmente tanti e riguardano le più disparate minchie di mercato ho deciso di fare questi video per mostrarne alcuni in modo che tu possa trovare quello che fa più al caso tuo o al caso del tuo cliente non perdiamo quindi adesso altro tempo e andiamo a vedere fashion and beauty direttamente dall'home page del tema Divi troverai comunque il link qua sotto in descrizione andiamo a navigare in quella che è la libreria dei layout e selezioniamo appunto la categoria fashion and beauty andiamo subito a vedere i primi layout di questa categoria abbiamo un layout composto da 8 template differenti abbiamo l'about, il blog, il contact form, una pagina chiamata designer, gallery, home, la landing e lo shop quindi abbiamo un e-commerce fondamentalmente pronto all'uso andiamo a vedere la demo in questione abbiamo una landing page andiamo subito a vedere quella che è la home page invece abbiamo un fascione dove abbiamo subito in mostra quello che potrebbe essere il nostro prodotto o dei nostri prodotti di punta abbiamo un testo iniziale poi abbiamo un'altra immagine con alcuni prodotti e immediatamente quello che potrebbe essere il bottone per esempio al nostro shop abbiamo un'altra sezione dedicata a quelli che possono essere prodotti o categorie di prodotto con un effetto over sulle immagini abbiamo anche qua il link allo shop concludiamo la home page con quelle che sono la richiesta di per esempio di iscrizione al newsletter e varie informazioni relative al nostro negozio vediamo il template designer di cui avevamo visto prima qua potrebbe essere chi è per esempio il produttore dei nostri prodotti che vendiamo quindi una pagina magari dedicata con quelle anche che sono magari le sue skill un po' la sua storia e il perché sta costruendo questo determinato prodotto andiamo a vedere la sezione ancora shop relativa sempre a questo layout quindi abbiamo quelli che sono la parte iniziale abbiamo un'altra sezione dove viene spiegato quali sono i prodotti che magari troveremo all'interno di questo e-commerce e poi successivamente abbiamo i prodotti quindi abbiamo l'elenco dei prodotti e un prodotto in evidenza suddivisi anche questi da un'altra sezione con testo d'immagine e quelli che sono i prodotti in evidenza poi abbiamo due ADV quindi due sezioni dove possiamo trovare dove possiamo trovare per esempio prodotti in offerta o offerte speciali quindi comprare magari due prodotti al prezzo di uno e poi il nostro footer concludiamo quindi con quello che è il primo layout andiamo avanti con altri layout abbiamo per esempio un altro layout che è un negozio di cosmetica abbiamo anche qua sette template diversi l'about, il blog, il contact, la home, la landing, il cosmetico e lo shop andiamo a vedere la demo abbiamo la landing vediamo quella che potrebbe essere una landing page dove abbiamo appunto un'immagine immediatamente con i prodotti come sono fatti i prodotti possiamo naturalmente personalizzare queste sezioni quindi i testi che troviamo possono essere assolutamente modificati possiamo parlare anche d'altro così come i bottoni, i link possono mandare dove decidiamo noi qui abbiamo per esempio altre spiegazioni, altri approfondimenti su quelli che possono essere i prodotti un po' di informazioni anche su quelle che possono essere magari le nostre politiche del nostro e-commerce e alcuni prodotti già messi in evidenza in questa griglia di prodotti con il link a tutti gli altri prodotti un video magari esplicativo di quello che sono i prodotti l'iscrizione alla newsletter e il foot andiamo a vedere quella che è la pagina shop quindi con l'elenco dei prodotti abbiamo anche qua un'immagine header diciamo dove abbiamo i prodotti che vengono comunque messi in vendita un testo e un bottone e successivamente abbiamo quello che è il listato dei prodotti con l'iscrizione nuovamente alla newsletter vediamo un attimo ancora questo template sale quindi andiamo a vedere quelli che possono essere per esempio alcune offerte e qui abbiamo un elenco per esempio mostrato in varie modalità quindi qua con testo a sinistra e immagine alla destra altri con un riquadro in alto a sinistra più piccolo e un altro ancora con un riquadro in basso a sinistra un po' più piccolo con quelle che sono le offerte per esempio a cui vogliamo dare spazio per esempio andiamo a vedere ancora altri layout appartenenti a questa sezione come potete vedere abbiamo un po' di varie anche nicchie di mercato differenti andiamo a vedere anche per esempio quella che è un shop, un negozio quindi in questo caso di occhiali da sole abbiamo qua 6 template diversi quindi l'about, il blog, il contact, la home e la landing andiamo a vedere anche questo dettaglio, questa demo di questo appunto di questo layout è un po' più particolare abbiamo un testo iniziale dove ci rimanda subito allo shop un prodotto subito messo in evidenza e in sconto qua abbiamo un po' di quelli che sono servizio politica del nostro e-commerce subito sotto l'elenco dei prodotti i brand che riguardano appunto questo negozio, questo e-commerce e qua abbiamo la possibilità di iscriverci alla newsletter per esempio e ottenere uno sconto arriviamo poi a quello che è il folder andiamo ancora a vedere anche qua la pagina shop quindi qua abbiamo nuovamente un prodotto messo in evidenza abbiamo altri due ADV quindi altri due banner dove possiamo inserire o una particolare categoria per esempio di prodotti o perché no magari prodotti che appartengono a una determinata fascia di prezzo questo lo decideremo noi e successivamente abbiamo una visualizzazione dell'e-commerce con i prodotti sulla destra e un'altra offerta del 15% in questo caso ma possiamo naturalmente modificarla comunque con un'offerta a modi sidebar sulla sinistra abbiamo poi di nuovo rappresentati quelli che sono i nostri brand e poi abbiamo anche quelli che possono essere gli ultimi articoli eventualmente del nostro blog abbiamo poi nuovamente l'iscrizione alla newsletter e il nostro footer vediamo ancora un altro layout qua per esempio vediamo un layout che riguarda quello che potrebbe essere un parrucchiere vediamo come può funzionare per esempio abbiamo sei template le voucher, il contact, la home, la landing, i service e lo shop andiamo a vedere anche come un negozio di parrucchiere possa diventare un vero e proprio e-commerce andiamo qua direttamente alla home page stavamo guardando la landing abbiamo appunto la prima immagine che indica che siamo appunto in un negozio di parrucchiere qua abbiamo del test come diciamo esplicativo di come potrebbe funzionare subito gli orari e dove si trova e la possibilità di fissare un appuntamento quali sono i servizi offerti quindi ogni tipologia di servizio di taglio di qualunque servizio e del suo costo alcune testimonianze dei clienti che sono stati lì la possibilità di mandare un messaggio quindi di mettersi in contatto attraverso un contact form dove si trova il negozio il telefono e la mail e gli orari di apertura molto molto pratica andiamo a vedere quello che è lo shop vediamo cosa viene riprodotto oltre a poter diciamo prenotare un appuntamento questi layout prevedono anche che il negozio possa vendere anche dei prodotti che magari utilizza all'interno e che i clienti possono comprare quindi abbiamo una lista di prodotti che vengono messi in vendita abbiamo anche poi l'iscrizione alla newsletter e la possibilità di nuovo col contact form di metterci in contatto andiamo a vedere ancora quella che è la lista dei servizi abbiamo la possibilità di nuovo di prenotare un appuntamento poi abbiamo un po' di domande frequenti e successivamente quella che è la lista dei servizi come abbiamo visto un po' prima nell'home page magari un pochettino più accurata un po' più accurata e poi un'altra sezione di nuovo dove si invita a prendere un appuntamento bene direi che per quanto riguarda la sezione appunto fashion and beauty ci siamo fatti un pochettino un'idea abbiamo visto come è applicabile agli e-commerce e come abbiamo dei layout più disparati per andare a creare grazie a Divi il nostro sito e il nostro e-commerce con davvero pochissimi click bene mi auguro che tu abbia trovato utile questo video se comunque hai dei dubbi o hai delle domande lasciamo lo scritto qua sotto nei commenti in modo tale che posso darti una mano per quanto possibile se ancora stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo work su e-commerce, temi, plugin, element e spulciando nel mio canale non hai trovato quello che cercavi lascia a mano anche questo scritto qua sotto così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto o qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso in ogni caso comunque se questo video ti è piaciuto metti un mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video ciao ciao